Qui entrano delle logiche anche diverse, di tipo di votazioni, non ti saprei dire, io credo, a mio avviso, ed è quello che un po' mi auguro anche, sempre nella musica alla fine resta ciò che c'è di vero, ciò che c'è di bello, anche di forte, quindi è normale che nel caos di un festival in cui soprattutto ci sono 30 canzoni, in cui ovviamente per far esibire 30 artisti non puoi una sera penalizzare qualcuno, una sera dare qualcosa in più a un altro, è normale, lo sapevamo, sapevamo quello che era il gioco, quindi non ti so dire se un pubblico che non vuole premiare o non premia o decide di non premiare qualcuno, secondo me bisognerà aspettare molto tempo per capire quelle che sono le canzoni che sono state premiate davvero, lo sappiamo, è la 74esima questa, abbiamo imparato un po' questa cosa, ci vuole tempo, a volte anche le canzoni che vincono, poi magari uno non se le ricorda neanche più, o invece ultime, canzoni che arrivano ultime, quindi non starei molto a guardare la classifica, non lo dico davvero per... no, io parlavo proprio della... no, io parlavo proprio della...